Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto e bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6 Italia Divisa in 2. Nel corso di questa domenica avremo ancora maltempo diffuso al nord per effetto di una perturbazione atlantica che porterà dei temporali particolarmente intensi sul nord-est e sul largo alpino. Fenomeni via via sempre più sparsi verso sud, qualche acquazzone al centro Italia, cieli sereni e clima quasi estivo sul meridione con temperature massime fino a 28 o 29 gradi. In Abruzzo giornata variabile, un po' di acquazzoni sparsi negli arei interne, specie nel pomeriggio, soprattutto sull'Aquilano settentrionale, qualche densamento sul terramano però senza particolari fenomeni, altrove cieli poco nuvolosi con schiarite in giornata. Temperature in ulteriore aumento massime tra 15 e 22 gradi, minime tra 6 e 12 gradi. Grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.